Abbiamo già risolto tutto, quindi il caso è finito, il caso è chiuso, bene così. Con quale colori scenderà Carboni? Ovviamente con i nostri. Andrea Carboni correrà la giostra con il quartiere di Porta Crucifera. Si chiude così l'intricata questione che ha tenuto Banco negli ultimi giorni, proprio alla vigilia della giostra di giugno. Dopo il caso del doppio accredito per il giostratore sia da parte del quartiere di Porta Crucifera che di quello di Porta del Foro, è stato infatti raggiunto l'accordo. Il quartiere Giallo Cremisi ha ritirato l'accredito, lasciando così via libera il passaggio di Carboni a Colcitrone. È stata la conclusione di Uniter che ha permesso di trovare l'accordo tra noi e Carboni. Per cui a questo punto c'è un unico accredito e correrà con il quartiere di Porta Crucifera qualora decidano di farlo correre. Quindi andiamo avanti per la nostra strada, credo che da oggi sia giusto parlare del presente e del futuro che in questo momento per noi hanno tre nomi che sono Vernaccini, Innocenti e Parzi sui quali abbiamo la totale fiducia per farvele la figura nelle giostre di quest'anno. Un fulmine a ciel sereno per voi il doppio accredito? Credo che questa non sia alla vigilia della giostra, è il momento opportuno di parlare di questo. Ci sono alcune cose che penso durante il periodo invernale dell'anno giostresco andranno chiarite in sede di CdA Giostra, istituzione Giostra, perché ci sono secondo me evidenti lacuni regolamentari che possono portare a una situazione di questo genere.